Grazie a tutti. Livello 2. Fase 1. Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia. Mettetevi in posizione di partenza. 3, 2, 1. Via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Are you ready? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop. Tempo di recupero. Tempo di recupero. Stop. 3, 2, 1. Via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Stop. Tempo di recupero. Stop. Stop. Tempo di recupero. Stop. Fase 2. Prossimo esercizio. Piegamenti, piedi in appoggio su panca. Mettetevi in posizione di partenza. 3, 2, 1. Via! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2. stop tempo di recupero stop 3 2 1 via 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 che toma che toma tempo di recupero tempo di recupero stop 3 2 1 via 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Stop. Tempo di recupero. Stop. Fase 3. Prossimo esercizio. Piegamenti, mani e ampiezza torace. Mettetevi in posizione di partenza. 3, 2, 1, via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1 2 Stop Tempo di recupero Top 3 2 1 Via 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Stop. Tempo di recupero. 3, 2, 1, via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, stop. Tempo di recupero. Stop. Allenamento terminato.